Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al canale con l'attivazione della campanella su tutte le notifiche in modo da ricevere tutto ciò che è nuovo ed esclusivo relativo al meteo in Italia, momento per momento, e grazie. Quindi, finalmente, un forte ritorno di pioggia e temporali in Italia, a partire dalla prossima settimana, e come vi ho confermato nei video precedenti, l'ultima settimana di questo mese è giugno 2023, precisamente a partire dal 23 e 24 giugno 2023, fino a luglio 1 del 2023, con quantità di pioggia molto elevate, comprese tra 10 e 170 mm in tutte le regioni d'Italia da nord a sud, come potete vedere davanti a voi sulla mappa, ma la parte del leone di pioggia e temporali sarà per le regioni settentrionali e in misura minore le regioni meridionali e le regioni separate del centro del paese, e quindi amanti dell'inverno e del tempo piovoso. Non resta che attendere pochi giorni e le piogge e i temporali torneranno prepotentemente in Italia e in grandi quantità, e questo è con la fine di questo mese di giugno 2023, e avvertiamo anche tutti che le piogge possono essere improvvise e accompagnate da forti tuoni e possono portare a torrenti paralizzanti, soprattutto nell'estremo nord e anche a sud, e altri dettagli più accurati, resta sintonizzato per loro più tardi e, alla fine, che tu possa essere in buona salute.